Ciao a tutti ragazzi, sono Gongs e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video, sono con Dera e facciamo una partita di bingo un po' strana. Abbiamo una ruota della fortuna, come vedete abbiamo messo 15 item, o meglio 14 item e un jolly qua. Il jolly praticamente funziona così, se tu lo becchi hai il potere decisionale di cambiare un'arma a tua scelta, di quelle già capitate, con una nuova, un nuovo giro. Abbiamo le stesse armi, se io che Dera, chi trova prima le 5 armi che escono, ovviamente vince la partita, saremo in playground, squadre diverse e nomi nascosti per non vedere dove siamo, né dove stiamo andando, né che armi poi abbiamo trovato. Quindi tu sei pronto Dera? Io sono prontissimo, quando vuoi. Perfetto, primo giro lo faccio io, vediamo cosa mi esce. Ovviamente ragazzi vi metto in basso a destra, ok, nuova pompa viola, è impossibile da trovare. Wow, sei stato molto fortunato. Sì. Vado io? Sì, sì, vai tu. Oh, semplice. Cosa ti è capitato? La torretta. No, dai, la torretta, ma perché l'abbiamo messa? Quella si trova come i funghi. Quando, cioè, boh, vabbè. Giro. Allora, io un nuovo pompa viola. Dinamite, questa sì che è semplice. Questa sì che è semplice. Altro che torretta. Vai, tocca a te, tocca a te. Vampa blu. Non è male, ma non è neanche tanto bello, eh. Allora, io quindi ho nuovo pompa viola, dinamite e il terzo cosa sarà? Dai, 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 dai. Tattico verde. Oh, mi sta andando bene. Mi sta andando benissimo. Eh beh, direi. Me li devo anche scrivere da qualche parte prima di dimenticarmene. Vabbè, questa è difficilissima. È capitata la più difficile. Cosa è capitato? Eh, non è tanto difficile, lo sai? No. In playground ne escono molte. È difficilissimo. È scontato che non possiamo prendere né dai lama, né dai drop. È vero, è vero. È vero. Allora, ragazzi, come ha detto Dara, non possiamo prendere né dai lama, né dai drop, né dalle vending che ci sono in giro per la mappa. Non sarebbe troppo semplice. Scarleggio in Dari, lo trovo là. Eh sì, appunto. Eh, non vale. Cosa mi capita, cosa mi capita, cosa mi capita? Dai, portami fortuna. Un'altra volta nuovo Pompaviola. Voglio un jolly, voglio un jolly, tocca a te, voglio un jolly. Voglio cambiarlo. Oh, magari lo prendo io il jolly. Sì, guarda. C'ero quasi, rift to go. Eh, non è... è un po' tricky il rift to go. Eh, il problema è che si trova molto nei drop e nei lama. Esatto, esatto. Non è, non è il top. Allora, ultima arma per me. Cosa mi capita? Dai, dammi un jolly. Torretta, stava per uscire nuovamente il nuovo Pompaviola. Eh, ti è capitata di fortuna qua. Torretta, torretta. Vai, cosa è la tua ultima? Uff, dai. No, la mia è difficilissima, scarleggendario. Eh sì, in effetti è abbastanza difficile. Ma il mio è proprio... Allora. Difficilissimo, a parte la torretta. Tutto il resto è difficile da trovare. Riorganizziamo, facciamo una lista. Prima io. Nuovo Pompaviola, Dinamite, Tattico Verde, un altro nuovo Pompaviola e torretta. Tu invece? Io ho torretta, vampa blu, chug, rift to go e scarleggendario. Sono tre i tuoi un po' difficili. Eh sì. I miei sono i due nuovi Pompaviola. Cioè, non è che posso trovare un nuovo Pompaviola. No, deve essere viola. È quello che abbiamo fatto di sbagliato. Comunque, adesso apriamo il gioco. Andiamo in Playground e iniziamo a cercare, ragazzi. A dopo. Allora, Dera, un paio di regole. Cambiamo team. Io vado nel 2. Ah, giusto. Poi, ognuno può scendere dove vuole. Io sono... Risulto morto. Ok, non più. Perfetto. Ok. Sei nel bus? Sì, sì, sono nel bus. Mi sta lanciando. Non ti dico dove vado, ma mi sono lanciato. Preparati. Io mi sto a scegliere una posizione con molto loot, eh. Eh, anche io. Anche io. Però credo che ci andrai pure tu. Non so effettivamente dove sarai. Allora, io ti vedo a lanciarti. Non stiamo andando nello stesso posto. Ah, tu mi vedi? Sì. Ah, ti ho visto anche io. Eh, stai andando a parco. Eh, ormai ti ho perso di vista. Bene, bene, perché mi sono nascosto dietro un albero. Ah, cavolo. Allora, prima c'è, prima c'è. Vediamo cosa c'è. Revolver, no. Allora, devo ricordarmi, nuovo pompa viola. Dinamite, tattico verde, di nuovo nuovo pompa viola e la torretta. Facciamo... Prima c'è. Uh, dinamite. Dinamite in terra. Eh. Siamo già in vantaggio. Sono già in vantaggio. Vediamo cosa c'è qui. Seconda chest. Slurp. Facciamo una cosa carina. Mettiamo anche nell'ordine e nello slot. Ok? Ovviamente la torretta rimarrà torretta. Abbiamo tutti e due la torretta, vero? Sì. Ah, cavolo, non ho ancora trovato niente. Io ho trovato Livi, viola. Dai, ma non potevo uscirmi, il nuovo. Ah, ma non è quello, è il nuovo. Sì, è il nuovo. Però è più difficile. È incredibile non trovare una torretta. Non ho trovato niente. Non sto trovando nient'altro oltre la minamite. Cioè, butto tutto, tanto non mi servono. Il mio tattico era verde, non bianco, maledizione. Perché hai trovato l'altro? Sì, ho trovato quello bianco. Ho trovato tutti i pompa, tranne quello che serviva a me. Non è possibile, non è possibile. Tu hai uno scaro leggendario da trovare, vero? Sì. Io ne ho uno viola davanti. Peccato. Oh! Rift! Dai! Eh già. Perché altro mi sto perdendo molte ceste, non mi ricordo dove sono. Non scendo mai in questo posto. Uh, ok, trovato un'altra ceste. Un'altra revolver, ma dai. Fammela aprire, fammela aprire. Test. Niente. Vampa blu. Fai schifo, fai schifo, Dera. Sì, sì, perfetto. Perfetto. Ma lancia missili guidato, ma siamo seri? In effetti gli esplosivi non abbiamo messo nulla. Eh, no. Tattico verde. No. È dinamite a fianco, quindi ho sei di dinamite e un tattico verde. Sono a due. No, no. La cosa, anche io sono a due. La cosa più difficile però per me è la chug. Vediamo cosa trovi in questa ceste. Il nuovo pompa viola è tipo impossibile. Non lo vedo da nessuna parte. Menomale che non mi è capitato. Beato te. Qua ho già lottato. Oh, ma una torretta? Da nessuna parte? Neanche tu? Eh, effettivamente. No, neanche io l'ho trovata. È che doveva essere la più semplice, eh? Sì, doveva. Non possiamo respawnare per spostarci. Mi ero dimenticato di dirtelo. Possiamo usare però tutte le cose di movimento, tipo rampini, boh, qualsiasi cosa. Lanciarsi dalle montagne alte, costruire in alto e volare. Non posso usare il mio rip. Tutto con te, eh? Poi lo devi ritrovare. Eh, effettivamente. Altra roba, dai, chest. Oh, siamo partiti bene. Poi non c'è più niente. Siamo bloccati. Non c'è più niente. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Una chest qui, perfetto. Poi è pieno di chest. Deagle. Qualcuno aveva la deagle? No. Eh no, nessuno. Trovando solo munizioni e roba varia, tipo AK, ne ho trovati 10 di AK in giro. Io non ti dico cosa ho trovato. Ho trovato molta cosa, molte volte uguale, tipo vabbè, a parte le dinamiti, le revolver. Oh, la Chug. L'hai trovata veramente? Sì, l'ho trovata veramente. Qua ne ho 4 di Chug. Cosa ti mancava a te? Cosa ti mancava? Il nuovo pompa, principalmente, è la torretta. Due nuovi pompa, capito? Che dolore. Viola. L'hai trovato, vero? Sto arrivando a Pinnacoli. Eh, ma lo devi trovare, devi sapere dov'è. Non mi interessa, lo troverò. Eh, sei avanti di uno, ma se trovo il nuovo pompa da te, siamo pari, eh. Eh, ma lo devi trovare. Lo troverò, lo troverò, tranquillo. Chissà dove, diamine, hai trovato quel cavolo di pompa. O mi ha trollato e mi sta facendo venire qui per farmi perdere tempo, e lo conosco, lo saprebbe fare. Molto bene anche. Guarda come se la ride. Guarda come se la ride. Mi devo girare, tu tappi in Pinnacoli, mi devo girare. Eh, giratela. Girati tutti i tappi in Pinnacoli. Questo è un pump normale? Il problema è che non è che devo andare negli spot delle ceste. No, lo può trovare anche in terra quel cavolo di pompa. Sì, infatti. Lo sai con chi ne ho trovato? Non dirlo. Ti potrei, ti potrei bannare dalla vita. Il fatto è che vorrei sapere almeno dove sei. Eh, non lo sai. Non lo puoi sapere. Io sto cercando lo scar legendario, però mi serve. Eh, è difficilissimo da trovare. No, veramente, dove sei? Sempre se sei ancora a Pinnacoli, oltretutto. Eh, questo non lo puoi sapere. No, lo scar silenziato. Ti manca solo lo scar legendario? Manca lo scar legendario e la torretta. Ma dovrei riuscire a trovarla almeno in questa casa. Vediamo, vediamo. Sì, di vicino a me. Sì. No, ma adesso mi rubi il loot. Sto rubando la ceste. No. Non vale nascondere le cose. Ok. Cosa c'è qua? È nulla di utile. No. Tu mi vuoi rubare tutte le ceste qua. Nulla. Poi ti devo dire una cosa. Molto, molto interessante. Molto interessante? Sì. Mi è fermato dal fare una cosa abbastanza brutta. Ah, mi stavi nascondendo qualcosa. Sì. Ah. Non è che lo stavo nascondendo, lo stavo proprio portando io. Ce l'avevo io nel mio inventario. Ah. Qualcosa che ti serve. Immagino lo scar legendario. Oppure. A me lo scar. Ho due torrette. È vero. È vero. Però tu dove sei andato? Sei andato qua. Quando me è qua. Quando me è qua. Dove? L'hai lasciata da qualche parte. Vedere. È qua. Cioè, a me mancano ancora tre cose. Stiamo scherzando? Ok. Ho un'idea. Ho un'idea. Ho un'idea. Un'idea. Guarda cosa sto per fare. Eh, non so. Non ti vedo. Non so dove sei. Eh, lo sentirai. Siccome ho bisogno di trovare quel pompa. No, non ci credo. Ma sei un genio. Butto giù tutto. Eh, io aspetto qua, così. Non vedo che c'è. Ah, io c'ho qualcosa che mi serve. Ok, ho ancora quattro dinamiti. Finisco di far esplodere il palazzo. E vediamo. Anche io. Rimango a guardare. Che mi potrebbe servire qualcosa. No, ho sbagliato. No, sono curioso. Voglio sapere se... A dove è tutto attaccato sto palazzo? Ah, qua. Ok. Uh, la trinamite. No! Dai! No! È quello che ti ho mollato prima. Oh, grande! Cioè... Manca l'ultimo. Sì, lo so che ti manca l'ultimo. Ultimo già. Il problema è che a me mancano ancora tre cose. Ti rendi conto? Ultimo oggetto. Dove... Cosa può... Dove me l'hai nascosto? Non te l'ho nascosto. Non li ho manco presi. Sì, me l'hai nascosto. Due ne hai trovato oltretutto, quindi. No, ne ho trovati tre. Ne hai trovati tre viola. Non vi pompa viola tre. Sì, sì, tre viola. Cosa mi manca? La torretta che non troverai. La torretta. No, assolutamente. La devo trovare. Dai! Non ci credo. Uno! Non ci credo. Non ci credo. Mi devo spostare. Mi devo spostare per forza. Uno l'ho trovato. Dai, 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 dai. Ti prego. Facciamo saltare in aria anche questo di palazzo. Facciamo prima. Oh, non c'è niente. Non ci voglio credere. Dai, dai. Salta in aria tutto, per favore. Veloce, veloce. Cosa ti manca? Cosa ti manca? Praticamente la torretta, se trovo adesso il coso. Ti manca solo la torretta? Diciamoli, sì. Hai detto che sono tutti appiccicati, quindi... Sono tutti vicini, sì. Sarà qua per forza. No. Ah, questo mi serve per il movimento. No, è una capa, questo. Dai, ho visto una roba viola, mi sono fiondato. Faccio una cesta. No, non mi serve questo fortino. Ne ho trovato mille di fortini. Dai. E ancora non trovo la nuova... Il nuovo pompa, l'altro nuovo pompa che hai trovato. Ma tutti attaccati un corno, non è possibile. Mi sono girato tutte le case. Eh, no. Eh, no. Mi spiace. Devi cercare bene. Jug. Dai. Qua sotto è lootato per forza. Trovato l'altro pompa. Oh, manca la torretta anche a me. Oh. Oh, qua non c'è. Oh, mio Dio. Ah, ecco il terzo nuovo pompa. Sì, è la sfida dell'ultima torretta. Sfida dell'ultima torretta. Vediamo un pochino se... Uh, ti ho recuperato di brutto. Mamma mia. Eh, cavolo. Erano tutti appiccicati. Ti ho dato un grande consiglio, però. Vabbè, io ti ho fatto esplodere un palazzo per trovare lo scar. Ah, ok. Quindi siamo pari. Siamo più o meno... Eh, più o meno pari. Due item. Beh, siamo pari in item adesso. Boh, io mi metto a far esplodere altri palazzi visto che ci sono. Ah, così magari lo trovi a caso. Torretta, torretta. Nessuna torretta. Oh, niente da fare. È difficilissimo. A quanto pare impossibile. Trovata! 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 Oh, no! Sì! Ho completato tutto! Ho completato tutto! No! Arrivo e te lo faccio vedere. Dove sei? Eh, sono qua... a Retail. Dall'altra parte della mappa rispetto a me. Sì. Sono la montagna dei vichinghi. L'ho trovata nell'ultima casa che stavo controllando. Dai! Ero in deciso se controllare lì. E ho detto, no dai, me ne vado. Ho saltato e c'era la torretta lì. Ma è difficilissima la trovare. Impossibile, è incredibile. Nope! Guarda. Uno. In ordine, eh. In ordine sono. Nuovo pompa viola, dinamite, tattico verde, nuovo pompa viola. E poi la nostra amata torretta. Trovata nella montagna dei vichinghi. Ma dov'è la torretta? Dai, rai. Dov'è la torretta? Dammi la torretta. Dammi la torretta. Hai vinto tutto. Vabbè, non accetta la sconfitta. GG. Ho fatto un errore madornale. Quindi sono nettamente indietro. Mancava il rift e la torretta. Esatto. Purtroppo. Vabbè, io direi di chiudere qui. Magari ci pensiamo un'altra di queste sfide, se a loro piace. Ma sono abbastanza sicuro che piacerà. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, commentate e condividete. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, iscrivetevi anche i social che ci sono in descrizione. Ci vediamo in un prossimo video. Grazie, arrivederci. Alla prossima.